E' l'Amazonia di Manaus, Inghilterra Italia, ci siamo, comincia il nostro mondiale Sterling, prova a farsi vedere Starage, velocissimo, Sterling, 19 anni, cerca la conclusione Ci ha fatto tremare perché ha preso l'esterno della rete Ancora Welbeck che va in verticale, salta secco Paletta, lo lascia sul posto, traversone E' il salvataggio miracoloso Calcio d'angolo battuto corto, per Pirlo, la finta, Marchisio, zona tiro Eccolo a destra, Claudio, Marchisio, 1-0 C'è l'unica si fa vedere, c'è Stare il suo centro dell'altra parte, Starage Pareggia subito in Inghilterra, 1-1 Pirlo, tra le linee per Balotelli, in area di rigore, Balotelli con su Arta Saltato, ancora Balotelli, Arta nella zona di nessuno Salva sulla linea, con una specie di miracolo di Agilca Ancora Pirlo, cerca Verratti fuori, sempre da Marchisio Ci pensa non al tempo, poi dentro il pallone, è buono, Candreva, Candreva, Paolo Si fa vedere Candreva che ha preso il tempo a Baines, Darniano lo serve Uno contro uno di Candreva, in ritardo Baines è pronto a traversione Candreva Lo salta secco, eccolo sul sinistro, secondo Paolo Paolo torna Palotelli, 2-1 Runei, prova a partire Runei, Bauer, Runei, prova il destra a incrociare Tutte azioni personali quella inglese Henderson Prova a metterla dentro per il colpo di destra di Runei Poi arriva Benza, un gran sinistro Non lo prova, Runei in posizione regolare Runei a giro Aveva spiazzato Sirigu Grande tensione, barriera folta Baines, Sirigu La spinge il calcio d'angolo, lo aspettava lì Va lì per l'ho E l'arbitro lo manda tutti sotto la doccia Italia, batte Inghilterra 2-1, buona la prima